buonasera benvenuti al posto di giri canale 3 toscana continua il nostro viaggio nel mondo dell'automotive in particolare la frontiera del elettrico stasera affrontiamo questo tema insieme a cristian semboli responsabile vendite della concessione a pampaloni di siena ben trovato cristian grazie per averci raggiunto mandiamo ovviamente un saluto a tutti i tuoi colleghi a tutto lo staff stasera con cristian approfondiremo questo tema che ormai non è un tema del futuro è un tema dell'oggi la frontiera dell'elettrico la sfida del mondo automotive sull'elettrico ci sono anche importanti novità in termini di incentivi statali ma andiamo per ordine cristian facciamo un po' una panoramica generale tra l'altro nel gruppo per cui te lavori da tanti anni la innovazione l'innovazione tecnologica è sempre stata un mantra siete sempre stati in questo molto attenti e avete proposto nel territorio sempre novità in questi termini l'elettrico rappresenta ormai una una presenza un presente sì ormai da da oltre dieci anni insieme a reno che è stata o diciamo il primo marchio ad affacciarsi nel mondo del dell'elettrico o meglio del di veicoli totalmente elettrici abbiamo accompagnato l'automotive in questa transizione ecologica diciamo siamo impegnati ormai da da anni nel proporre soluzioni di mobilità dedicate esclusivamente a veicoli elettrici e nell'ultimo periodo abbiamo intensificato questo impegno sempre di più anche grazie alle nuove normative a livello europeo che sostengono ulteriormente questo mercato questo mercato è visto in in notevole aumento nei prossimi anni mano a mano che ci avviciniamo a questa data del 2035 che dovrà essere diciamo al momento uno spartiacque tra i motori termici e motori elettrici ci dirigiamo sempre di più verso questa innovazione grazie anche ai nuovi contributi statali che verranno diciamo messi in campo già a partire da inizi di aprile a febbraio c'è stato un tavolo esatto un tavolo dell'automotive come viene definito presso il governo dove sono state varate diverse misure a sostegno dell'acquisto di veicoli elettrici consideriamo che con i nuovi incentivi 2024 arriviamo fino a 13.750 euro di contributo in caso di rottamazione di un veicolo euro zero uno due tu sei responsabile vendite quindi conosci bene ovviamente tutta la parte tecnologica delle delle auto in realtà voi avete più brand quindi anche spaziata in ovviamente una dinamica di largo campo quali sono i dubbi più comuni che un utente medio che approccia l'idea di comprare un'auto elettrica ti pone quali sono magari anche dei dubbi che invece non dovrebbero sussistere visto ormai la come sono performanti queste tipologie di motori quindi simuliamo che tu ci debba presentare un auto del genere quali sono i motivi per sceglierla i dubbi non ci nascondiamo sono sempre relativi all'autonomia del veicolo quindi l'impossibilità magari di effettuare tratte lunghe con questi veicoli e i tempi di ricarica questi sono diciamo i principali motivi di dubbio nei consumatori oggi diciamo che rispetto a dieci anni fa dove c'è stato il primo approccio all'elettrico questi oggi sono un po sdoganati questo perché perché la tecnologia ha compiuto passi notevoli in avanti abbiamo sia veicoli elettrici da città quindi le city car con un'autonomia ridotta intorno ai 250 chilometri sia veicoli ad ampio raggio come sulla nostra gamma abbiamo lo Scenic veicolo è stato presentato qualche giorno fa e eletto auto dell'anno 2024 questo è un veicolo pensato per la famiglia un crossover dimensioni adatta a una famiglia e a una percorrenza dichiarata di 620 chilometri e questo diciamo è il primo dubbio il secondo dubbio sono i tempi di ricarica e le modalità di ricarica oggi le infrastrutture di ricarica su tutto il territorio sono naturalmente disponibili in ampia in ampia parte tra l'altro a proposito di questo voi avete anche predisposto delle colonnine presso la vostra struttura non a disposizione sia presso il nostro showroom di siena che di poggi bonzi all'esterno abbiamo delle colonnine dedicate al pubblico e per tutti i veicoli elettrici di qualsiasi tipologia oltre ovviamente la tematica ambientale che ovviamente è immediatamente conseguenziale a questo tipo di scelta quali sono gli altri vantaggi operativi che un utente può riscontrare in questo tipo di auto sicuramente i costi di manutenzione che sono ridotti dell'80% rispetto a un veicolo termico non abbiamo cambio dell'olio cambio filtro gasolio per un motore a gasolio cioè ci riduciamo all'usura delle pasticche dei freni e ai filtri abitacolo aria quindi sono motori che hanno molta più lunga vita con meno bisogno di manutenzione sì sulla gamma Renault le batterie sono garantite 8 anni a 160.000 km quindi anche diciamo una garanzia totale del veicolo un'ultima domanda questo mercato crescerà sempre di più i brand che voi rappresentate sono stati un po' dei antisignani nel percorrere questo questa nuova appunto frontiera tra l'altro ci sarà poi un orientamento molto forte da parte anche della comunità europea che stabilirà poi a breve e si parla di qualche anno il fatto che l'elettrico rappresenti l'unica ovviamente tipologia di auto in circolo clienti che invece hanno fatto questa scelta già da diverso tempo quali sono gli scontri che hai avuto voi avete poi dei rapporti molto buoni con questi clienti che rimangono nel tempo avete un grande tasso di fidelizzazione no? sì siamo presenti sul territorio come ben sai da oltre 50 anni e quindi abbiamo tanti tanti clienti affezionati i riscontri dei primi veicoli elettrici sono positivi sono positivi chi ha un veicolo elettrico e lo vuole rinnovare l'80% risceglie elettrico naturalmente rispetto a qualche anno fa come dicevamo prima la tecnologia è migliorata le autonomie sono migliorate e oggi un grande principio che si pone Renault è quello di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti quindi contiamo da qui al 2027 di avere tre modelli nella nostra gamma al di sotto dei 25 mila euro quindi anche macchine più piccole quindi anche per magari per giovanissimi eccetera sì per approcciare questa mobilità elettrica per tutti abbiamo Swingo, Renault 5 e nel prossimo 2026 anche Renault 4 quindi tre veicoli sotto i 25 mila euro Cristian io intanto ti ringrazio per la tua testimonianza di stasera mando ovviamente un saluto donato a tutto il grande staff di tutti i tuoi colleghi di questa azienda che rappresenta veramente una storia importante nel nostro territorio ci rivedremo magari presto per ritornare a approfondire il tema dell'elettrico intanto grazie a voi per l'attenzione io vi auguro ovviamente una buona prosecuzione di serata con i nostri programmi arrivederci